Significa che qualcosa sta cambiando, qualcosa può cambiare, però bisogna mettersi tutti quanti insieme per far sì che cambino veramente le cose e non bastiamo in due su questo palco, c'è bisogno di sentire le vostre mani, DJ fai sentire il beat, voglio sentire le vostre mani che vanno su questo ritmo, ve mai così vai! Prendo le risanze da me perché non voglio avere niente a costruire c'è, da prodividere, con chi come me non fa nulla per correggersi, so che il mio nemico è il piacere in cui cazzeriere di me stesso con la chiave in tasca e infaudere libertà, ma per adesso sempre in questa certa resta è una spagata la tipice mandata dall'interno sono un'anima danata messa a guardia del mio inferno regno impossibile me impossibile e inattestabile nel mio restare fermo immobile se i giorni scorrere sul calendario faccio la vittima e il parlante di sicario e sono l'uomo nero che tuttava i sogni quando li facevo e quando mi conoscevo qua adesso ed è come nel sangue anche quando mi compresso dei piccati con me seguido un mito da fe in cattiva campania sono capito se sto solo io vi dico che vicino a me guardando il volo salto stallo ho dedicato alla moderna P3 che sembra più una versione sfigata effettivamente della P2 no? deve essere un po' come per le macchine fotografiche più alto il numero più schifo fa la macchina peccato che questi vicini hanno tutte le lenti distorte e comunque dedicato a tutto l'arco costituzionale con grande affetto e rispetto e quindi vai così percussioni di cittadini grazie 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 che vi